Da Gauto, Mitsubishi Motors, in via nazionale torrette, mercogliano, Avellino. A Natale per sempre, non lasciamo solo Luciano. Il caso del senza tetto avellinese che rischiava di morire nel degrado di un cantiere abbandonato. Dopo il drammatico SS lanciato al nostro microfono, è stato adottato da una pattuglia bipartisan di consiglieri comunali e tanti cittadini che con il sostegno della Caritas hanno allungato una rete di protezione per aiutarlo. Il senza tetto, che tra l'altro soffriva di gravi problemi di salute, è stato accolto da un centro dell'Interland napoletano dove sarà curato i suoi amici e chi gli è stato vicino nei momenti difficili, però non lo lascia solo. A Natale sarà anche il compleanno di Luciano. Per stargli vicino è stata resa disponibile una post-pay intestata a Luciano Romagnolo. A Natale, per sempre, non lasciamo solo Luciano. Il senza tetto, dal grande cuore. Pochi sapevano delle condizioni del povero Luciano Romagnolo che attualmente siamo riusciti a farlo ricoverare presso una comunità del Monte Faito, Vico e Quenze. Finalmente adesso ha un tetto sicuro dove dormire, dove mangiare e sarà curato perché soffre tra l'altro di gravi patologie e quindi va aiutato. Abbiamo pensato di lanciare questa post-pay per Luciano, piccole donazioni da parte di chi vuole insomma aiutare questa persona per le spese vive. A lui non manca niente perché ha dove dormire e mangiare, però le spese vive sono solo il pacchetto di sigarezze, di comprare un maglioncino. E quindi abbiamo lanciato questa questione della post-pay a fuori di Luciano Romagnolo. Tra l'altro ha bisogno, anche perché adesso si avvicinano le feste di Natale, è un modo per stare vicino a questa persona? Sì, è un modo per stare vicino a questa persona anche perché il 23 dicembre Luciano compie 54 anni e noi saremo lì ad andarlo a trovare per fargli gli auguri, formulare gli auguri e vedere cosa altro possiamo fare per lui. Tanta gente comune si è messa insieme, è nata un movimento, una mobilitazione spontanea per aiutare Luciano. Sì, c'è stata praticamente questa mobilitazione spontanea di tante persone umili, tra cui Pasquale Villaricca, Maurizio Ricciardi, Giovanni Esposito, la Caritas di Carnomele, Roberto Tucci, insomma. Si è creato un grosso gruppo di persone semplici, umili, che non hanno altro interesse, sono quelli di aiutare il prossimo, di tendere la mano al prossimo. Saluteci Luciano. Ovviamente, Luciano, stai tranquillo, ti siamo vicini, hai preso l'impegno con noi tutti, che farai di tutto per riprenderti dal tuo Stato e ti aspettiamo qui ad Avellino perché il tuo pane lo desiderino in molti, ti ricordo che sei un ottimo panettiere.